Porto Torres, Basilica di San Gavino, esterno. L'ho cercata ma non c'è proprio. La facciata. La basilica ha due absidi ma nessuna facciata. Non toglie nulla alla straordinaria bellezza della chiesa, anzi, la rende particolarissima. Entrambi absidi molto belle, come del resto è molto bello l'ingresso principale che però appunto è situato nel fianco meridionale, un pregevolissimo portale del XV secolo in stile gotico catalano. La basilica già cattedrale è la chiesa romanica più grande dell'intera Sardegna ed è legata alla venerazione dei martiri turritani. L'inizio della costruzione è databile attorno alla prima metà dell'XI secolo, quindi antichissima. costruita ad opere di maestranze pisane venne inaugurata dal giudice Mariano di Torres e dall'arcivesco costantino di Castra nel 1080, una delle primissime chiese romaniche. costruita ad opere di maestrano. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.